Ho un problema Fammi mangiare oggi Fammi mangiare Allora fatemi vedere che ci stanno Ci stanno i draghi Ci sono destie Ho detto destie E si è fatto una crasi coi demoni Credo che comunque sia morto il 2-2 piuttosto Oppure posso prendere uno 3-3 Cioè vorrei farlo proprio Per magari non perdere due danni al primo fight Damo un ragazzo con un sacco di qualità L'intelligenza non è fra queste Ma oggi Dava ha streamato presto L'ho visto il live prima Si può essere Ah ma è venerdì lui stream a pomeriggio Che c'hai bro? Che c'hai bro? Un 2-3 fareggiamo Ti ho preso in tempo caro scusami Ti ho rato conto Ma prima mi ha messo più pezzi del dovuto Ah ma faccio la cienese Per quello te l'ho detto Non metto il pezzo Dalla tua gioia se non mi hai trovato token Sbaglio? No No Ho ne ha frenzato uno in taverna Ah è uguale Ah ok io non so Ci sta E adesso tu Prendi i giochi token Vendi i token E trovi un altro battle Ci stanno manco gli elementari Dice almeno Eh infatti Infatti è un disastro Branno è un disastro Però vabbè Fai 5 tanti in più Fai 5 tanti in più Infatti in quei lo metti Eh beh Se no me lo sciotto Devo scammare la top 3 La top 4 Io questo intanto Ragazzi sapendo leggere e scrivere O compro Però ci stanno vero spini Capito? Quindi Insomma Si potrebbe anche power livellare Fatevi vedere Che fa lui Ah power livellato Pinnus Andiamo a triplare il 26 E vincere la lobby O prendiamo queste due carte Ci stanno la tre A me piace Cioè qua pareggiamo E entriamo subito Nella possibilità di Triplare il 26 E lì poi inizierà veramente Una lunga partita di APM Che sicuramente Non farò il meglio Però vincerò lo stesso Perché è troppo forte La tizia caro Se la frinzi però Fa un po' Di casinico e gold No? Ah bro Potevi evitarlo Fai un po' di casinico e gold Perché Io non posso rollare Devo comprare due adesso E penso che C'è meglio C'è Della tizia Molto all'aki qua Molto all'aki Questo compo sicuro C'è da capire se vogliamo Kagber Kagber Con i token Sono triple Il fatto che Se io triplo Kagber Inizio a triplare Al 4 Cosa cazzo trovo? Niente C'è niente Al 4 Dove tenermi le triple in mano Per perdere un sacco di danni Dai Fiamo Kagber Mi piace Vediamo Il problema ripeto Se trovo Se trovo token Devo tenerli in mano Cioè devo fare perlomeno Un 5 o un 6 Arrumbarete Kagber Fai un trade Grazie Arrumbarete No Raga Non è una scorreggia Mi sono alzato E mi si è strappata la sedia Non è una pera Cioè non è un peto Che cazzo no Alla mia età Dai regà Figurati Niente token bro Rana Bronzewarden Lo prenderesti il Bronzewarden? O facciamo un roll? Mike sei forte? Per niente Quindi Bronzewarden È una gialla da tempo Che non Che ti farebbe perdere Sì In realtà neanche tanto È forte questa È molto forte No Sono più forte di te però Ok Vai Stata prenda Comunque la freeze Non so se Wart Io non so se Wart Ti pare Kagber Ho la seconda run Shop Più caldo E ho già Macau Quello è il problema No? Minchiamenna Non bro Un ultimo Però Perché ho messo Per un ultimo? Che famo regà? Tripliamo sta roba? Ok dai Meno male Save Ah scusami Per morire dici? È Brann ultimo Sì Cioè Magari all'inizio Lo hitavo più volte No? Vabbè Tutto calcolato Tutto calcolato Tutto calcolato No regà Non lo so Cioè Non lo so Cioè se io tipo Katar E tirappo C'ho un 5 E poi per ogni token C'ho un 5 È forte Tra le altre cose Tra le altre cose Triplando Katar Devo anche vendere Il Bronze Warden E troppo credi Cioè devo vendere Il Bronze Warden Ti pare Katar Giocare token Come content Eccolo il token Eccolo il token C'è il token Qua su No bro Io frizzo Il 3-3 frizzo Ah oggi voglio giocare frizzante Ok No regà Mi dispiace Rip content Non me la serve Qua vi faccio un po' De gold Poi vendo Taunt Eh mi dispiace Vorrei triplare Ah vorrei triplare O Macao Probabilmente Probabilmente Macao Potevo anche riparlo adesso Se qua perdo è un errore Forse Non lo so Dovrei perdere Già per questo hit Ok no Dovrei perdere Adesso il Mago Attack Vedi Sta roba Reganer fatta adesso Cioè Sto fight Lo perdevo io Cioè Lo perdo lo stesso In realtà Cioè Lo perdevo Lo perdevo meglio Lo perdevo peggio Lo perdevo Mica Ho perso L'81% Capri niente Complimenti Io ho venduto bravo All'assistenza del cazzo c'hai Dammelo cazzo Dammelo cazzo no Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Mike perdonami Caro Scusami Mike perdonami Tanto duri poco Poi ti voglio vedere E io Da martedì Quando ti tocca ragionare Sulle b No Ma per me No Ma che schifo Che schifo Che fa Batecar Tutto uguale Tutto Abbiamo ancora Un po' Di tempo Ci stanno I verrospini No Ma che cazzo Me ne frega A me Abbiamo la spuretta Che ci salva Il culo Da zap Oddio Sì A meno che non gioca Doppio zap Audio Bro tu sei forte Ma non credo che Audio No No man allaghi qua Allaghi I tuoi veleni Audio Poverino I tuoi veleni Iniziamo ad essere fastidioso Sì 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 è chiaro Va bene Qua ti faccio il cap Ti faccio E non ti do Non ti ho manco fatto Prendere i veleni Dai lo saluto Intoxicated Veramente Audio Ah ci sei pericoloso Allora a me che mi serve Qua E saltare lui 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 Macao Allaghi Macao Allaghi Macao Allaghi qua Regà dovete iniziare a giocare A questo gioco A cazzo Come faccio io Vedete che funziona Questa partita Questa partita Siamo i draghi Io vincere questa partita Con Calegos E nadina in mano Come ho fatto ieri Trust me Bro Trust me E tra le altre cose Se trovo Baron La prendo lo stesso No Perché l'ho presa No Ok L'abbiamo tolta agli altri L'abbiamo tolta agli altri L'abbiamo tolta agli altri Mamma Mamma Certo che avevo mamma caro Però ho fatto questa simpatica gag No Bene Anche la gag intendo Molto perfetta Boom A posto Abbiamo praticamente già vinto Oh 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 Eh questo è Statman Oh oh Dai dobbiamo ammazzare Il Bronze World E qui li sono Tre danni garantiti Non penso che possa Più ammazzarmelo Vabbè comunque Ci andano in fuori Sai che sta partita Merito di perdere io Per tutta questa Strafottenza di merda Che sto facendo Ti meriti Ti meriti E resti un altro Vomito di gatto No che schifo Ancora puzza di merda Sta stanza bro La verità Puzza ancora di merda Ah però cos'hai sta merda L'amico da mio Macao Un altro Ma sto brava Fa proprio schifo Questo meta Comunque Eh brava Fa veramente pena Caro seno Ma merda Ma merda Più totale Bene 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 Sono due In realtà Mi sta un po' sul cazzo Sta cosa Sta un po' sul cazzo Plotto umana Sti cazzi in realtà Mi serve Argus E Oh e Reborn Argus Oh tra le altre cose Sì per carità Fa schifo Tauntare lui Ma non è proprio Il peggio Del peggio Del peggio Cioè la mia testa Ha visto cose Ben peggiori di questa Però sì Non frizzeremo Argus Allora per terminare Questa board Questa build Mi serve Reborn Arrana Reborn a Macao E tauntare Il ratto 2-3 Non frizzargus Perché in questo momento Più importante Del secondo taunt Che è importante Che siamo al turno 9 Attenzione perché arriva Il Macao triplato Che attacca Non una buona news Per te Come cazzo Gli è permesso Ammazzare il ratto Ok dobbiamo iniziare A giocare attorno Madonna man Mike Lo sai che faccio Per giocare attorno a zap Gio con l'altro baron Geniale Geniale bro Geniale Hai capito Eh sì Potrebbe essere più utile Mettere un altro ratto Però Eh una spora In realtà i latti C'erano già due Mi dai il morto man Dai Grazie Veramente la del morto Che mi è tanto in morto E' pulito a finire con gold Vero? Però Argus mi piace a me Perché ti vuoi dare Argus Scusa Eh me è un taunt Devo metterlo io Cioè Allora peggio Tanto lui No mi serve un altro taunt Caro Mi serve un altro taunt Assolutamente Il fatto che Più che il taunt Mi servono i reborn No? Qua Mangia Sì Mi servono i reborn Cioè Con un taunt Sul 2-1 anche Baron se non muore In due turni Vinco sempre Poi può anche morire Baron Il problema Che se io taunto Il 2-1 Ho bisogno O di un macao O di un 2-2 Per ciclarlo Oppure Eh sì Perché non c'è Lo spazio che sporietta Cioè in realtà Ce l'avrei pure Lo spazio che sporietta Ma quel macao Quanto è forte Quel macao Questo qua Minchamente Tutti a draghi Tutti a draghi Sono nati Vedi? Una volta che Una volta che Salvatato Attacchi Non si perde più Però comunque Voglio preservarla Morto nessuno Cazzo 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 Non è che esco Adesso E finisce Tutta la mia Arroganza No Oddio Cazzo Bru Cazzo Bendy drago Vendi Un 2-2 Dai Tantra Tantra Meglio De Un baro Ma lo sapanno No Ritorna Fio mio Sì Però Ho capito Prova C'è un sacco Di roll Ancora Nel senso E mi cobro Perché mi sa Costo Baffi Alla Rana Deve morire Ho capito Molto bene Molto bene Abbiamo il nostro Secondo Tantra Sono contentissimo Però non abbiamo Reborn A me non era Indispensabile Cosa? Il token? Il Tantra È indispensabile Il secondo Il secondo Uno Un obbligatorio Man Man Questo non è un Tantra Questo è due Tantra È fortissimo È OP Ti metti sotto La probabilità Che quella rana Non muoia E che ma Cauta Che prima Che venga Spawnato La rana Non ho capito Sta cosa La rana La rana La rana muore È un 8-8 Eh Guarda Attacca Free trade Se adesso Quello che attacca È il ratto No Sei stato fortunato Ma come hai fortunato? Se il suo pezzo Invece che distruggi La tua rana Attaccava il tuo Secondo Tantra Il tuo Macao Avrebbe attaccato Senza Il detratto Spawnato Della rana Eh ma Il secondo Eh vabbè Ho capito Ma tanto Se la rana Non muore Comunque Il Macao Attacca Senza il detratto Della rana Ho capito Ma con un tanto Solo Questo problema Non si vuole Certo Però Quei due Tant Proteggono Baron Da un altro attacco È OP Secondo me È straforte Cioè L'idea è questa Rimane Baron Nei primi tre attacchi La partita è vinta Anche se il Macao Va a cazzo Cioè Prima o poi La rana muore Tanto È un 8-8 Con Tant Cioè Deve morire per forza Nel frattempo Qui si fanno Un po' di stat Oh Capito Cazzo Saltamo Però sta roba È fortissima La voxirella No Ma è porno È porno Io che ne so Se Pinnus C'ha zap Facciamo in trasto 1-1 Regà Al posto Del 6-5 Ma Maxer Maxer Ma sono d'accordo Però Però devi trovare Lo spot giusto Cioè Quest'ora È OP Sono d'accordo Con te Però devi trovare Lo spot Per giocarlo Hai delle priorità Hai grosse priorità Posso finire Per almeno Un 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 Reborn Il fatto che Se io vendo Savanna Per giocare Murozord E trovo Il secondo Macao Sono forte Altrimenti Altrimenti Mi indebolisco E basta Cioè lui Non c'ha zap Un po' per zap C'ha delle stat giganti Ma niente Che non possiamo Fare anche noi Vedi Adesso 19-19 Non mi può attaccare Baron E quindi Save un turno Ecco Ora se me l'ammazza Un po' laghi Se no abbiamo vinto Perfetto Me l'ha attaccato Figurati se posso giocare Con un taunt solo io Che c'ho Porco Dios Una cazzo di calamita Di merda Quel Baron di merda E vinciamo lo stesso E vinciamo lo stesso Perché basta Basta che fa E vinciamo lo stesso Non ha senso Troppo sbroccata Questa cosa Niente No way Sei fuori bro Se ne è parlato La mia povera salata Ma sei fuori E contro i Murlock Non possiamo perdere Per quanto mi guarda Può anche concedere il tipo Sei Murlock E Zap Tanto Zap Va su due due A me che cazzo Me ne frega De Zap No No Andiamo a cercare Reborn Però potrebbe anche avere Sei Murlock e Self E Striplata In realtà Bene Ma i miei Reborn I miei Reborn Visco su seconda rana Io ho visto La vera fine Dei tempi Ah meglio qua Ho due taunt È meglio metterla a una seconda Infatti non c'ha Zap Ancora Bran lui Qualità Eh a me non la vedo bene Per te lo sai Peccato che non è morto Zap Con 27 mileni Perché ha attaccato Bran Ma va lo stesso Io adesso potrei valutare L'idea di prendere A che tir sta lui Sta al 5 Allora se triplo va al 6 Dobbiamo guardarlo Fatto il fatto che lui Potrebbe No sì Se triplo va al 6 Dobbiamo stare attenti Perché va a cercare Zap Ma secondo me siamo Secondo me siamo parati Per Zap Fatto il fatto che Con questa giocata Gli facciamo fare un turno Molto più breve no Perché dici che lo butti fuori adesso Eh no bro Non penso Perché adesso Guarda come ammazza Baron Si ammazza gollo O vintano Eh no Ma a realtà non vinceva manco se Che schifo Se 118 No se ti colpiva Macau vincevi Eh Macau si Come migliora sta cosa io Mettendo un secondo ratto O seconda tavanna Valseva Si va a cercare Zap A cercare Eh laser 5 è forte Eh laser 5 è forte Sembra che tu abbia un piano Sa che il protocca mette questo Nozzato Ha concesso Te l'ho detto che poteva succedere Te l'ho detto che poteva succedere Si però ma non cambia niente Non cambia niente In realtà se ti attaccava Baron Con un lato attacco Non so se ce la ricevi Ok però Allora a questo punto A questo punto Uno potrebbe dire tranquillamente Se non metto tanto Me l'attacca prima Baron Cioè potrebbe essere un'idea no? No bro Baron si difende più forza Contra il taunt Non c'è niente da fare Cioè più che altro Non perdi mai Cioè con il taunt Baron non muore Non perdi mai Abbiamo anche protezione a Zap Rimaneva sempre il nostro token 78 Da tipo 20 punti in meno Quando si gioca in coppia no? Mhm Vabbè ci sta Però ci si diverte di più A giocare che tra gli amici Per me ci sta Eh il gattino era meglio Però ci si via